Sopralluogo del sindaco di Portoferraio nella zona del porto interessata dai lavori di riqualificazione e di miglioramento della viabilità. Un intervento finanziato dall'autorità portuale iniziato all'inizio di gennaio e che in parte risulta completato. I lavori stanno procedendo come da programma e quindi a breve saranno anche completati. Siamo qui perché è un momento un po' particolare per quanto riguarda i flussi veicolari del traffico, sia quello urbano che quello destinato poi all'imbarco. Cerchiamo di trovare una soluzione per garantire la sicurezza e soprattutto perché non ci siano intralci o intoppi come si potrebbero concretizzare con un senso unico derivante dai lavori di rifacimento del marciapiede e dell'ex cromofilm. Tutto teso alla sicurezza e alla funzionalità del porto. In molti hanno notato la particolare struttura del marciapiede, già ultimato davanti alla sede degli ormeggiatori. C'è chi ha pensato fosse una pista ciclabile ma ancora non è dato a sapere. Sarà una sorpresa, come ha annunciato il primo cittadino a Portoferraiese. Lasciamoli con questa curiosità, glielo diremo poi. Ogni tanto qualche sorpresa bisogna farla al termine del lavoro.